E nell'imminenza del 25 aprile, festa della liberazione a Condove in Valsusa, è stato inaugurato un museo della resistenza. Divise, armi filmati, manifesti originali dell'epoca, sono i primi mattoncini concreti e ideali su cui sorge il museo valsusino della resistenza a Condove, sulle cui montagne nel 44-45 combatterono fino a 1300 partigiani. Condove è una comunità che diede un alto tributo di sangue proprio sul finire della guerra di liberazione. Sì, in effetti il 7 aprile ci fu l'ultima fucilazione, otto civili vengono trucidati per rappresaglia. Il museo che ricalca l'impronta culturale di quello più noto torinese è stato inaugurato stamane all'interno della sede storica della Moncenisio, vecchia fabbrica meccanica, luogo simbolo centropulsante della lotta operaia contro i nazifascisti. Oggi di proprietà delle acciaierie Lucchini. Qua operavano molte brigate partigiane, era 114, era 115, era 113, era 17, poi al di là della montagna altre. Non ricchissimo ma destinato a crescere con il concorso e la partecipazione di tutti, il museo ha le carte in regola per diventare più centro di interesse per le generazioni più giovani. La scuola ha bisogno di crescere e perché la scuola cresca occorre che abbia disposizione dei locali, degli atelier, dei laboratori con delle persone esperte che possono dare il loro contributo. Il museo è nato sulla spinta di una ex partigiana Enrica Morbello Core, che ha donato tutti i cimeli storici da lei raccolti per decenni insieme al marito, comandante partigiano in Valsusa. Lei invece lavora proprio alla Moncenisio con il compito di Remogi di Intelligence, spia al servizio della Resistenza.